Buongiorno, scusate la mia tenuta ancora da... no, che sono ancora in biciava, scusate la voce, ma veramente scusate, mi sono svegliata poco fa, non si debba vedere, che ieri sera sono andata a letto tardi e io non vado a letto tardi, ma ho bisogno di dormire la mattina. Comunque, vi da il buongiorno anche Marco, anche se in realtà Marco è già andato a lavorare, perché ho già fatto il pomeriggio, però vi da il buongiorno anche lui. Ho messo a caricare il video, questo qua non mi peggio di non averlo fatto prima, il vlog di ieri di l'altro mi fa. Il video di ieri di l'altro, poi buongiorno anche dal signorino qui, sì, oltretutto devo ancora ripetere il letto, bene sì, noi dobbiamo con il cuscino in mezzo. Comunque, buongiorno anche da questo fragolino qui, eh sì, buongiorno amore. Comunque, io adesso mi basso stamattina anche perché nel pomeriggio vorrei registrare il video dei preferiti di dennaio. E poi ho anche un altro video, quello della cucina, quello che dicevo un tempo fa. Però mi guardo un po' di tv, anche perché dentro fra un pochino mandio, quindi è inutile che, che, guardo, che registro insieme i video. Scusate, non riesco nemmeno a parlare. Scusate, non riesco nemmeno a parlare. Ma ho ancora sonno. Voilà, allora, scusate. Mi sono vestita e mi sono vestita con una felpa, il rosa shock, pantaloni della tuta e via. Perché tanto dopo potevo portare il sac fuori, quindi... Non sono vestita un po' di tanto a lavorare ci vado stasera, alle sette entro, quindi... Comunque, se ci sto facendo da mangiare, ma non so... Non farò queste primette, quelle di ieri sera. Questo mi è piaciuto anche tanto. Però non so con che cosa. E l'altra abbiamo comprato... Già, sono infame. Le palline... Tutte qui, della Coco Pops. Solo queste qua. Sono buone, eh. Qui al video li manca ancora. È al 12%. Li manca la bellezza di... Dov'è? Non c'è ancora. Dove ho scritto qua non c'è. Non c'è perché. Dunque, vabbè. E poi abbiamo comprato anche sempre della Coco Pops, però le barchette. Per ieri... Scusate. Siccome sono venuti i miei soci di Cina, hanno portato queste pennelle che ho detto. Queste qui. Non dimentiché. Queste buoni, si mettono anche un po' di 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 un po'. Però ancora non so con che cosa farle. Adesso vedo un attimo. E tra l'altro... Ho rifatto le chili. Voilà. Almeno così sono a posto. Però adesso... La la lasciamo un po' aperta. Almeno... Cioè, riciccolo d'aria. Anche se poi... È chiuso da tutte le parti, però. Adesso vedo con cosa farmela. Perché non ho idea. Tra l'altro, ovviamente, c'ho sempre qualche ciuffetto. Però... Va bene? Amore, c'è. Adesso vedo un attimo anche cosa fanno in secondo perché non avevo poi l'idea. Allora, poi di secondo mi faccio queste bracioline, ma non credo tutte. Anche queste sono piccoline. Però... Poi... Mi volevo fare un po' di pane... Con questo... Vi faccio vedere. Con il Philadelphia. Anche se in realtà avrei voluto farmi... L'uovo con il pomodoro. Perché vado... Vado veramente matta. L'uovo con il pomodoro, però. Poi ho desistito. Allora... Mi faccio questo con... Poi, per il filo del fai pane, quello morbido, il pan carré, insomma. Come si dice, come si chiama? Mi faccio quello lì morbido. Sto facendo la pasta. E poi penso che... Infatti adesso sto mangiando le gualline dei cocosacchi. Penso che mi posso già iniziare a mettere su le... E oltretutto... Oltretutto... Qui dentro, se non mi sbaglio... Adesso, guarda, guarda, vediamo. Però se non mi sbaglio... Ora, con una mano è impossibile. Però mi sa che ci sono i fagioli. Quelli che aveva fatto mio suocero a ieri. La pasta sta cuocendo. Sì, aveva ragione. Ci sono i suoceri. I fagioli. E bene. Comunque adesso metto un po' in carica la batteria della video camera. Perché si sta scaricando. Io finisco di cuocinare e poi mangio. E poi porto fuori il bacio. Ma quello lo faccio verso ieri qua. Tre e mezza. No, no. Ci vediamo dopo. Ok. Ho finito di mangiare già... No, ma è po'. Già di copertato. Io a mazziccare. Adesso mi metto le scarpe. Si, si va fuori. Perché lo porto fuori adesso. Allora, sotto a me la sento un gran casino. Qui giù. Non ho la scuola. Comunque. Prima, o scusate. Ma prima di scendere. L'avevo assolutamente pulire in camerina. Perché il cane ha fatto la pippia. No, non è un tipo un po' erino. Lo capisco perché. Avevo chiuso una persiana quella lì. Perché se no non riescivo a vedere la televisione. E poi vi spiego il percorso. Allora. Quello che io volevo dire praticamente è che. Ora. C'è la televisione accesa. Però come vedete i colori sono un po' sfalsati. Allora sono interi. Però se mi metto a vedere questo è risultato. Quindi. Se invece io. Sto guardando anche i castori. Tra l'altro. Quindi se io chiudo. La. La stiana. Anvice. Già i colori sono. Così. Vedete. Ecco perché. Allora io uso. La stiana. Tra l'altro. Però adesso lo porto fuori. Perché. E' anche caldo oggi. Dunque si sta bene. Non è freddissimo. Soltanto la sera è freddo. Ma è normale ancora. E oltretutto. Dovevo portare le scarpe. E oltretutto. Oddio. Caldo. Tendissimo. Non è. Però non è neanche. Prese. Altro devo buttare anche. 18. Quindi dobbiamo buttare. E' un po' di spallo. E. Appunto. Io non vedo l'ora che sia. Tutto l'estate. Perché almeno. Possiamo portare fuori. Il cane. Meglio stare più fuori. Perché ovviamente il pomeriggio si lo portiamo. Però la sera. E' freddo. Quindi ci facciamo il solito giro. Che facciamo sempre. Però. Niente di che. Ecco. Moriamo soltanto di freddo. Ci vediamo. Siamo appena tornati. Dalla. Fosseggiata pomericana. Vedo cosa c'era oggi. Una bellissima giornata. Di sole. Ebbene sì. Tra l'altro. Non so chi è che urla. Sicuramente saranno i figli. Che stanno. In questo giardino qua. Ovviamente. Però non è stato giusto. Uno di grazie. Oh è tornato qualcuno. Non mi sa che sta tornando. Ho chiuso la urbana. Comunque adesso. Dove mangiare a piuccino. E tra l'altro ieri sera. Non ho mangiato così niente. Qua adesso glielo raggiungo un pochino. Poi. Glielo. Glielo do. Non so perché. Adesso. Quando si incomincia a non mangiare. Quindi. Vediamo scoprire il perché. Tra l'altro sacco che ve l'avevo detto. Mi è arrivato all'altro sacco. Questo qui. Gigante dei croccantini. Non so se. Ve l'avevo detto. Meglio. Non mi ricordo. Ve l'avevo detto. Non so. Sono strido da. Allora. Il cane. Non avevo mangiato assolutamente niente. Ovviamente è tutto qui. Le avevo preparato. Ovviamente è tutto qui. Non ho mangiato veramente. Ma veramente veramente niente. Nemmeno un picco. Comunque. Ho appena registrato il video. Del tour della cucina. Adesso mi metto a editarlo. E poi. O lo mando subito online. O lo manderò. Domani. Ora vediamo un attimino. Perché sono già le. Quattro a un quarto. No. Non ce la faccio. Tra l'altro. Poi dovrò registrare i video dei preferiti del mese. E vi volevo fare anche il tour. Della nostra camera. Da letto. Fatemi sapere. Se volete. Che vi faccio il tour. Della camera da letto. Se vi. Se vi può interessare. Ecco. E se volete. Vi faccio anche il tour. Della camerina. Subito. Se volete. Ma fatemi sapere. Allora. Ho. Già. Finito di editare il video. Mi farò un video. Un po'. Così. Insomma. Non è chiaro. Questa cosa. Comunque. Mi sto facendo una bella sprinza. E. Che volevo dire. Non me lo ricordo più. Sfaltosi sono. I. 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 I vicini. Stanno. Parlando. Comunque. Vi volevo dire. Si. Sì, c'è una bella giornata oggi, ecco, l'anno abbiamo finito in mente, ma non posso dire che loro, sì, è una bella giornata, scusate, non sto prendendo, non sto prendendo, non sto prendendo, non sto prendendo, comunque dicevo, è una bella giornata, però fa fresco, non pensavo, cioè pensavo che fosse fosse più caldo, ma in realtà, invece fa abbastanza fresco. Voilà, spremuta pronta, e adesso merenda time con spremuta, e lo yogurt, questo della Foyos, alla stracciatella, che ne vado veramente matta, c'è anche al cocco, e poi altri gusti, ma io veramente, questa la stracciatella allo stradoro, mi metto al computer, guardarmi un po' di video, mentre mi faccio la mia merenda. Allora, io sto andando al lavoro, in realtà sono le 43, sì, mi muovo con un largo anticipo, perché prima di entrarmi voglio prendere il caffè con calma, bermi con calma, voglio fare le cose con calma, non voglio fare le cose di fretta e di furia, quindi me la prendo. Allora, super con calma, l'unica cosa, è che mi dispiace lasciare il signorino da solo, però alla fine se la dorme, comunque, il signorino ha mangiato solo un po', ha mangiato un po', ma ha mangiato soltanto questo, quindi io non so più che cosa fare per farlo mangiare, io non do di mano, ma dopo un po' lo lascio così, quindi non so più veramente che cosa fare. Comunque, io adesso vado e ci vediamo dopo, tra l'altro stasera esco alle 11, sì, esco alle 11 e domani, oggi stasera entro alle 7, fino alle 11 e domani dalle 18, stasera, allora, uno dopo, questo è un po' un po' appinando, allora stasera dalle 19 alle 23 e domani sera dalle 18 alle 23, quindi faccio un ramcio di stocco, a dopo. Ovviamente, come al solito, scusate per i capelli, soprattutto questi ciuffi e gli orecchi, ma veramente, li odio, li odio in tutti i cuori. Sono appena arrivata a casa, non fate caso al mio aspetto, i miei capelli, perché ancora non me li sono neanche sciolti, quindi, mamma mia, stasera, stasera fa un freddo, infatti non vedo l'ora di sentirmi i pigiama e infilare nel letto, perché lo veramente credo poi tirava inca come oggi. Mamma mia, mamma mia, sono appena arrivata, insomma, qui in zona lavoro, non tirava sotto questo letto, ma qui, anche perché noi eravamo più alti, tiravano inca come io, spero, ammigliate comunque, mi fanno un bacio, mi fanno anche Marco e Zac, Buona notte, vediamo al prossimo video.